e intanto noi andiamo avanti col programma con Maurizio Codogno che si sta avvicinando alla postazione, l'MLM e con tutti i suoi fascicoli che come sapete se avete visto il programma è qui per raccontarci di questa nuova vecchia questione del copyright e di come l'Europa ha deciso di deliberare anche se chiaramente la normativa ancora non è entrata in vigore e non sappiamo se entrerà in vigore visto che il Parlamento europeo sarà rinnovato fra qualche mese quindi non è neanche detto che vada in vigore questa normativa ma insomma questa è una mia notazione all'atere intanto che aspettiamo che Maurizio si prepari. Maurizio è un, lui si definisce il matematto e io siccome è lui che si definisce così mi piace riprendere questa definizione perché è una persona estremamente competente riguardo come dire ai contenuti del mondo digitale, alla rete eccetera e in più è un matematico quindi lui scrive libri di matematica rendendola però comprensibile che non è una cosa che fanno tutti al mondo, no? E quindi vi consiglio i suoi testi e gli passo la parola. Ecco qua, forse la possiamo fare, prima mi chiedeva come mai lui vedeva questa immagine e invece sul monitor uscissero le mie slide, io ho detto beh ovvio perché come ben sapete la legge sul diritto d'autore in Italia è la 633 barra 41 quindi chi c'era? Lui. Bank, bank, è tutto un unico giro come si vede. Ce la possiamo fare? Io parlo, parlo. Allora per prima cosa, a parte il fatto che il copyright appunto in Italia è la legge sul diritto d'autore, poi spiego la differenza non preoccupatevi nel 41, quello che è importante è che il copyright digitale è sempre copyright. Non è che ci sia, ci debba essere qualcosa di diverso solo perché una cosa è scritta su carta oppure è scritta sui nostri tablet. No, esattamente la stessa cosa. Seconda cosa, ci siamo, che bello, abbiamo trovato anche la prima slide. Il titolo è colpa sua, quindi non prendetevela con me, mi ha solo detto vuoi parlare della direttiva copyright? Io dico va bene e lui mi ha scritto la direttiva copyright, spiegate ai giornalisti. Vittorio, colpa tua. Comunque, il copyright è bello, come diceva padre lo schioppo a pagare le tasse è bello, poi lui è morto quindi non so quanto, d'altra parte le tasse e la morte sono le uniche due cose sicure, in Italia forse è solo la seconda. Il copyright è bello ma perché ha un senso, quello di dare possibilità a chi crea delle cose di guadagnarci su. Se non ci fosse il copyright dovremmo tornare indietro ai mecenati che pagavano il povero scrittore, artista, eccetera, eccetera, per commissionare, gli commissionavano le opere. Quindi vuol dire comunque essere sotto qualcuno in un certo senso. Invece appunto con le istituzioni del copyright siamo riusciti appunto ad avere... non funziona, quindi mi hanno detto che devo andare avanti con le slide in questo modo. Allora, come dicevo prima, il copyright nel digitale non è una cosa diversa dal copyright nell'analogico. Quello che però ovviamente cambia è il modo con cui si può enforce, si può riuscire a far funzionare il copyright. Perché le fotocopie costano, il contro C contro V costa molto di meno. Quindi bisogna anche pensare... bisogna anche pensare a come fargli riuscire a tutelare il copyright. Effettivamente l'Unione Europea ha una sua direttiva datata a 2001. Diciamo che il 2001 è pre-istoria da questo punto di vista, quindi ha senso che ci siano messi su e mi hanno cominciato a dire bene, come possiamo migliorare questa direttiva e renderla più adeguata a quello che facciamo adesso. Voi non so quanti di voi nel 2001 avrebbero pensato appunto di avere un telefonino in tasca che ti permette di sapere praticamente tutto ed è già tanto che appunto nel 2001 si usassero i computer e le cose in rete. Poi, la speranza inconfessata di tutti era quella di troviamo qualcuno che ci dia un pochino di soldi perché Facebook e Google continuano a guadagnare tantissimo perché devono guadagnare loro e non noi. Cosa che di per sé non è neanche così sbagliata? Perché in realtà se ci pensate il materiale di Google chi è che lo scrive? Il materiale di Facebook. Siamo noi che lo mettiamo dentro. Quindi da un certo punto di vista potrebbe anche essere giusto dire bene cerchiamo di farci dare un pochino di soldi. Invece non è detto che succederà così. Scrivere una direttiva è una cosa che non finisce più perché si parte dalle commissioni all'interno dell'Europarlamento. A questo punto si studiano, preparano, fanno tutto il disegno di legge, passano all'assemblea. L'assemblea può dire sì siete state bravi, siamo tutti belli contenti, cosa che non è successo in questo caso perché a luglio se vi ricordate è stata bocciata la proposta portata alla commissione Juri di Axel Voss che faceva il capo. Allora a questo punto si sono fatti un nuovo round di emendamenti che sono stati votati a settembre. A questo punto si passa al trilogo. Cos'è un trilogo? Un dialogo 3. Ci sarà la commissione, quella con la C maiuscola che appunto è l'organo fondamentale dell'Unione Europea. Ci sarà il Parlamento Europeo, ci sarà il Consiglio delle Nazioni. Se tutti sono d'accordo, magari ci sarà ancora qualche piccola modifica, si passa finalmente al voto finale, il che ovviamente deve arrivare prima della fine della legislatura perché altrimenti si perde tutto, esattamente come da noi disegni di legge che non arrivano alla legislatura, lacrime al vento. Quindi insomma è una cosa complicata. Il problema se volete che quando mi sono rimesso a leggere tutti gli emendamenti che sono passati da luglio a settembre ho scoperto che sono riusciti ancora a peggiorare la direttiva sul copyright togliendo certi diritti che insomma erano più o meno presenti. I punti in cui dal mio punto di vista personale le cose sono migliorate non sono molti, ve lo dico subito. Qui poi adesso mi devo un pochino arrabbiare con i giornalisti, non buttatemi troppi pomodori in faccia. Io dal mio punto di vista appunto con il cappellino di Wikimedia Italia ero interessato alla direttiva, non ho trovato maggio niente, giugno niente. Perché ogni tanto non sento? Non lo so. Inizio luglio cominciavano a esserci qualche timido, timido si fa per dire, articolo editoriale dove tessevano le magnifiche progressive Lodi. Ecco, io dico no, un momento, cos'è questa storia qua? Non spiegate nemmeno cosa è questa qui, vi dite semplicemente fidatevi una bellissima direttiva. Ecco, cosa si è fatto? La comunità di Wikipedia in italiano, che è una comunità non troppo grande ma molto cattiva, ha detto bene, per fare in modo che qualcuno sappia cosa sta succedendo. C'è un algoritmo nel tuo microfono, che quando dici delle cose un po' nocive nel mondo del giornalismo, tac, ti si abbassa. Ah, effetto apposta, scusate, proviamo, 1, 2, 3, 5, boh, effettivamente in questo momento funzionava perfettamente. Cosa ho detto? Bene, blocchiamo Wikipedia. Wikipedia. Effettivamente a quel punto... No, a quel punto non era una cosa cattiva, eh. A parte le battute non so come mai intanto... Vendi questo. Uno, ecco, così forse mi sentite meglio adesso, speriamo, eh, incrociamo le dita. A questo punto si sono accorti che effettivamente c'era qualcosa. Ci hanno detto dei venduti pagati da Google e da Facebook. Amen, nel senso non possiamo... Però perlomeno c'è stato un minimo di notizie al riguardo. A settembre cosa è successo? Esattamente la stessa cosa. Solo che ovviamente non aveva senso ribloccare Wikipedia. Io ho tentato, appunto, ho scritto a un po' di direttori di vari giornali importanti per chiedere un po' di spazio per spiegare alcune cose, tra l'altro su temi, che farò vedere dopo, tipo il diritto di panorama alle opere orfane, che con il giornalismo non hanno nulla a che fare. Perché comunque ovviamente la direttiva è generale, non è solo per la parte legata al giornalismo. Chi è stato l'unico che mi ha risposto? Avvenire. Io, appunto, ho avuto il mio bel intervento scritto su Avvenire. Ovviamente, come si chiama per par condicio, dall'altra parte della pagina c'è stato un intervento di un ero parlamentare a favore della direttiva. Questo va benissimo, nel senso, dal mio punto di vista, l'importante era cercare di poter dare informazioni su queste cose, cosa che appunto non mi è riuscita, se non appunto con Avvenire. Dall'altra parte, ormai appunto uno deve sapere che tanti giornali hanno evidentemente una linea editoriale che non è quella che appunto piace a noi, amen, non muore nessuno. Tra l'altro appunto ho scritto giornali di sinistra, di centro e di destra, e non è che... non era un problema politico, assolutamente. Ok, sì. Qui adesso la parte più che cercherò di tenere un pochino allegra, ma non lo è, è far vedere questi articoli, come sono stati fatti. Salto tutti i recital, che sarebbero, considerando all'inizio, che non li ho neanche letti tutti io, perché quelli lì servono semplicemente per dire cosa volete, cosa vogliamo fare. Quindi appunto non è importante. Quello che è importante è scoprire che abbiamo delle definizioni, nell'articolo 2, si parla di pubblicazione di carattere giornalistico, che è la fissazione da parte, chissà se riesco a leggerci di qua, degli editori o delle agenzie di stampa, questo è stato aggiunto a settembre, di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere, altre letterarie, puntini e puntini. L'importante, come scoprirete, è avere questa cosa qua, quindi i giornalisti sono importanti da questo punto di vista. Hanno specificato che ci sono delle cose che i giornalisti possono fare, mentre altri no. Va benissimo, intendiamoci, non è quello il problema. Ricordatevi solo che tutta questa direttiva è un tutt'uno, quindi ogni tanto vi dirò attenzione a questa cosa, ricordatevela, perché uscirà fuori tra un quarto d'ora. Poi ci sono le opere fuori commercio, che sono quelle, sono i libri, che sono stati pubblicati anni fa, di cui nessuno ha più voglia di pubblicarli, non li trovi più in commercio, perché ovviamente uno dice, cos'è, spendo soldi per fare un libro che mi compreranno in cinque persone? Bene. Questi qui saranno oggetto di una specifica tutela del copyright. Poi ci sono i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. Bello, eh? Cioè, ragazzi, con dei paroloni così uno si è già fatto la giornata. Questi sono i siti che è appunto dove la gente può mettere su delle cose. Wikipedia. Non è, non lo è. Perché c'è scritto, quindi nella definizione c'è scritto che devono essere a fine di lucro. Wikipedia non è a fine di lucro. Assolutamente. Non ci guadagna niente. Poi però, nel corso delle definizioni, si scopre che a un certo punto non si parla più di fine di lucro, ma a fini commerciali. E qua vedremo più tardi che la cosa cambia molto. Abbiamo poi un articolo sul data mining, che è abbastanza, perché ovviamente ci si fa i soldi ormai, anche prendendo dati appunto e sfruttandoli per fare altre cose. Qua non c'è molto importante, continua a valere il copyright originale, salvo che per ricerca scientifica, con tutte le cose, che se è una ricerca scientifica non può essere usata per altri scopi, bla bla bla, non è importante. Interessante che abbiano aggiunto un nuovo articolo, l'articolo 3bis, che dicono che le biblioteche, tipo la Biblioteca Nazionale in Italia, di Firenze e di Roma, possono scansionare le opere fuori copyright. Attenzione, quindi, opere che in teoria dovrebbero essere di pubblico dominio ormai. Quindi se io prendo un'edizione, la Divina Commedia, per dare un esempio banale, ma anche un gozzano che è Anna Frank, il diario di Anna Frank, questi 80 anni dalla morte dell'autore ci sono stati, comunque, se queste opere qua, io posso scansionarle per fine appunto di preservazione del materiale, ma solo con il permesso di chi possiede fisicamente quest'opera. Quindi se io ho un libro, un incunabulo, posso dire no, io non voglio assolutamente che questo qui sia, che le immagini di questo libro siano, resi disponibili al pubblico. Perché io me lo tengo il libro mio e ci gioco solo io. Non è molto bello, ma amen. Sull'articolo 4, ricontinuano ad eserci delle cose divertenti. L'articolo 4 parla di come possono usare gli insegnanti del materiale che di per sé è sotto copyright. Qui, come potete immaginare, ci sono due diritti diversi che si incontrano, scontrano. Uno è il diritto del possessore di copyright che vuole ovviamente guadagnarci perché ha fatto un'opera creativa e vorrebbe avere dei soldi. Benissimo. Due è quello appunto di dire no, però la cultura è importante, quindi stiamo cercando disperatamente di fare in modo che questi nostri poveri figliuoli imparino qualcosa e quindi diamo la possibilità agli insegnanti dentro l'aula oppure su app che siano assolutamente bloccate che non possano essere usate da nessuno che non sia legittimo proprietario. Va tutto bene. Ok, quindi qui viene data un'eccezione. Mi sono dimenticato di dire che praticamente tutta la direttiva copyright si può riassumere in questo modo. C'è il copyright, però ci sono delle eccezioni al copyright. Tutta la direttiva dice questo. Quindi si trova appunto eccezione e eccezione. Nel caso dell'articolo 4 abbiamo l'eccezione che appunto i nostri professori in scuola possono usare anche materiale sotto copyright per fare il dettato ai bambini, per dire. Però c'è un'eccezione all'eccezione. L'eccezione all'eccezione è non possono usare libri, testi scolastici e su questo direi che siamo tutti d'accordo, no? Il testo scolastico è fatto apposta per la scuola, quindi se vuoi usare un testo scolastico lo usi, lo prendi, lo paghi. La seconda cosa sono gli spartiti musicali. Adesso, io sono una persona, una brutta persona, mi dicono sempre, oltre che un matematto. Quindi penso sempre molto male. Chi c'era il... Secondo voi è andato semplicemente così perché gli piaceva il Belgio? Ah, scusate, il Belgio, scusate, la Francia, Strasburgo, no? Se c'è qualche francese qua mi perdono, ho sbagliato completamente. Secondo voi voleva fare un giro a Strasburgo? C'è che un bel tram? Poteva farsi il giro sul canale, eccetera? Secondo me no. E questo appunto è stato aggiunto a settembre. non era una cosa nella direttiva originale. Neanche nella direttiva originale modificata dalla Commissione Iurica e quella che si è votata a luglio. No, questo è arrivato tra luglio e settembre. Sappiatelo. Visto che tanto non lo dice nessuno, lo dico io. Eccoci qua, appunto. Abbiamo questa riproduzione delle opere orfane, quelle appunto fuori commercio di cui dicevo prima. L'aggiunta è stata a settembre che nel caso di opere di pubblico dominio la riproduzione non sia soggetta a diritto di opere di pubblico dominio, ripeto, eh. Quindi il vecchio copyright era già scaduto. Quindi cose che di per sé dovrebbero essere libere. La riproduzione non è soggetta a nuovi diritti d'autore. Io sto riproducendo, non sto creando qualcosa. Quindi non si capisce perché ci dovrebbe essere un diritto d'autore. pur che sia fedele a fine di conservazione. È solo una riproduzione fedele a fine di conservazione. Allora, qui ammetto la mia ignoranza legale. Perché? Se sei ottimista puoi dire, beh, almeno ti dicono che si può fare in un modo o nell'altro. Se sei pessimista in realtà ti dice attenzione che questo vuol dire che se qualcuno fa la riproduzione perché vuole farsela pagare può farlo. Ricordo tutti gli accordi che ha fatto Google per la digitalizzazione del patrimonio agricoltorale italiano. Non so se vi ricordate. C'è ancora Franceschini come ministro che diceva che belle cose. Sì, ma Google lo fa per guadagnarci. stiamo di nuovo parlando di prendere opere che non hanno più diritto d'autore perché sono vecchie e dare appunto la possibilità di consultarle a chiunque. Google giustamente dice io lo faccio perché ci voglio guadagnare però insomma ecco, non so quanto sia bello personalmente se fosse se qualcuno vuole farlo a gratis gratuitamente non può più farlo perché comunque c'è stato l'accordo con Google. Sappiatelo. Qui diciamo di nuovo ancora sull'open l'altra cosa più divertente è che la SIAE o l'equivalente degli altri degli altri nazioni può dire noi facciamo vi offriamo una licenza per avere il permesso di copiare appunto rendere disponibili queste opere fuori commercio. Quindi le opere sono sotto copyright queste ricordo le opere fuori commercio non sono nel pubblico dominio sono semplicemente opere che nessuno vuole più pubblicare perché decide che non ci guadagnano abbastanza. La SIAE può dire va bene io vi dico guardate se voi pagate 100.000 euro l'anno potete fare queste opere qua e renderle disponibili. La cosa più divertente è che c'è ancora un sotto comma che dice la SIAE ovviamente non tutela tutti gli autori ed editori uno può tranquillamente non essere iscritto alla SIAE però visto che tutela la maggioranza anche per gli altri vale quindi io che non sono iscritto alla SIAE devo sapere che l'opera di mio nonno che fuori commercio e nessuno mi ristampa più non può essere liberamente trascritta messa in forma elettronica perché per farlo bisognava prima pagare la SIAE che ovviamente i soldi a me e a me di mio nonno non dà perché non sono iscritto alla SIAE è fatta così non è colpa mia è iscritto potete andare a prendere tra l'altro è difficile capire leggere bene questa direttiva nelle slide che poi saranno disponibili ci sono tutte le note dove c'è scritto dove sono i documenti da cui ho preso queste slide in pratica ho dovuto prendere la versione del 2016 2016 due anni fa più l'elenco degli emendamenti che sono stati approvati nel 2018 quindi avevo sempre queste due finestre di testo dovevo riuscire a capire qual era la logica dietro perché poi vedremo più avanti che queste sono ancora cose facili ce ne sono ancora di più complicate e appunto scoprire scoprire guarda che strano questa cosa cosa è successo com'è che la CIA si prende i soldi anche di opere di altri è un caso scusate sono tanti casi in questa vita la matematica è praticamente un modo per cercare l'ordine della casualità e la legge a quanto pare è molto simile questo è l'articolo che vi piace di più che è il famoso articolo 11 non è una link tax su questo siamo tutti d'accordo c'era scritto già a luglio c'era scritto i link per testuali non fanno parte di questa eccezione a settembre sono stati ancora più bravi hanno aggiunto qualcosa i link testuali e le singole parole possono essere usati quindi allora innanzitutto questo qua è un nuovo diritto accessorio allora siamo tutti d'accordo un articolo di quotidiano eccetera eccetera ha un suo copyright non ci piove non ci pioveva prima e non ci pioveva adesso e non ci pioverà domani ed è giusto l'articolo 11 cosa dice non è che dica non posso prendere gli articoli tutti gli articoli degli altri e metterli in una pagina cosa assolutamente illegale siamo d'accordo dice non posso prendere i link e più di una parola da vari giornali lasciando poi ovviamente il link vai a leggere tutto il resto dell'articolo e appunto non posso farlo se non dopo aver pagato i diritti questo è nato perché ovviamente Google News fa questa cosa qua e gli editori dicono ma vediamo se ci danno dei soldi per avere appunto la possibilità di andare a leggere di far leggere la gente e far scoprire dove è il nostro articolo che dice queste cose ora personalmente io parto dal principio che se un articolo è fatto bene tu leggi le prime due righe di introduzione ti viene voglia di andare a leggere l'articolo e quindi vai direttamente ma questo è un altro punto praticamente in Germania avevano già fatto una legge simile il più grande gruppo editoriale alla fine ha dato una licenza gratuita a Google per usarla quindi non serve a niente in Spagna hanno fatto una legge simile questa legge ha solo la piccola differenza che non era possibile dare una licenza gratuita Google News ha detto sapete che vi dico chi usa non c'è più Google News in spagnolo per la Spagna esiste in spagnolo per l'America Latina quindi comunque il risultato ma questo non è così importante dal mio punto di vista quello che noto è che appunto si sono aggiunti nuovi diritti accessori che non c'erano prima quindi una tutela di qualcosa di diverso fatta a favore di chi aveva le cose prima poi ci siano accordi non ci siano accordi quello è un'altra cosa però in questo modo appunto si dice che il copyright non è più solo su tutto l'articolo ma anche solo su il titolo dell'articolo per dire il titolo più link che è questo che a noi come Wikipedia ha dato preoccupazione perché se ci pensate quando c'è una voce di Wikipedia che cita dei giornali lo fa perché ovviamente Wikipedia non ha autorità di per sé l'unica autorità che può avere Wikipedia è quella di dire guardate che l'han detto loro e di loro vi potete fidare e lasciamo perdere Giulio Cesare di Shakespeare ovviamente perché quindi per noi è ovvio che diciamo se è successo questo perché la stampa ha detto questo e quindi dove ci mettiamo la citazione noi rischiamo con questo articolo 11 di dover dire no dobbiamo chiedere una licenza per poter usare il titolo della stampa il titolo non l'articolo perché ovviamente di nuovo come dicevo il testo non verrà mai usato vabbè allora che l'abbiamo spiegato anche a luglio qual era il problema si poteva anche modificare l'articolo lasciando il principio logico Google ci dia i soldi e mettendolo però appunto in modo che il titolo fosse fuori per dire non mi sembrava una cosa complicata non è stata fatta misteri questo è l'articolo più divertente allora da qualche parte ho anche l'audio del di un'intervista a Alex Fos che appunto è stato il il relatore della direttiva che ha detto ah questo articolo è stato messo a mia insaputa tutto il mondo e il paese allora nella direttiva è stato aggiunto un nuovo capo quindi un nuovo gruppo di articoli che contiene solo unicamente questo articolo gli stati membri riconoscono agli organizzatori di eventi sportivi i diritti di cui è l'articolo 2 e l'articolo 3 paragrafo 2 della direttiva 2001-29 CE che è la prima direttiva del copyright e dell'articolo 7 della direttiva 2006 e i 115 CE chiaro no? allora io sono 25 anni che per una storia o per l'altra mi occupo anche di cose legali non ovviamente senza nessuna formazione specifica purtroppo appunto nella vita capita di dover fare le cose una delle poche cose che ho imparato è che più ci sono riferimenti senza scrivere cosa c'è più c'è una fregatura dietro statisticamente funziona così allora il risultato pratico è questo voi fate vedere siete gli organizzatori di una partita di calcio avete il diritto quindi dice vendete i diritti alla televisione eccetera eccetera e giustamente dite tu che non hai comprato i diritti non puoi far vedere la partita ma neanche un'immagine poi c'è il diritto di cronaca se volete però appunto generalmente funziona così vi ricordate la prima volta in cui l'era hai perso i diritti del calcio penso una ventina di anni fa io il calcio non lo guardo ma fa lo stesso quelli che il calcio con Fazio cosa ha detto non possiamo più far vedere neanche i pezzettini della partita e chi se ne importa ha detto mandavano il verde la noce il tizzetto sugli spalti inquadravano loro sugli spalti magari prima della partita facevano vedere il campo vuoto dove ovviamente non c'era l'evento sportivo perché non c'erano neanche i calciatori dentro quindi potevano farlo tranquillamente perché non era l'evento sportivo era la cosa di contorno la traduzione di questo è che anche le cose di contorno rientrano nella definizione di evento sportivo quindi è l'emendamento appunto il copyright contro quelli che è il calcio forse è solo il problema di non far vedere la litizzetto potremmo anche dire vabbè chi se ne importa il punto è che pensate cosa succede se c'è uno striscione razzista qualunque cosa che chi tiene diritti decide di non far vedere perché non vuole che si sappia quello che succede oggi è che probabilmente ci saranno decine di persone che postano su facebook la foto dello striscione il video eccetera eccetera quindi noi veniamo comunque a saperlo con l'articolo 12 bis il capo 1 bis della direttiva non è più possibile perché comunque staresti violando i diritti il diritto di collega se l'avete i giornalisti io che sono uno spettatore non lo so comunque io segnalo semplicemente questo piccolo particolare poi come ho detto io non sono un legale quindi non avrei nessuna voglia neanche di andare in tribunale quello che succede comunque è questo e mi chiedo effettivamente quale sia la razio che dice il diritto l'evento sportivo anche tutto il suo intorno su questo effettivamente uno se lo può chiedere al momento possono farlo allora al momento si può fare probabilmente non so assolutamente cosa succede sul singolo come si chiama sull'immagine lì ma perché siamo sempre lì siamo al solito punto che uno dice c'è anche una certa importanza diversa un conto una foto fai più fatica a fare comunque tutta la causa legale che trovi magari un giudice che ti dice che non è così importante in questo momento io parlo solo di principi perché comunque la direttiva fa dei principi vi ricordo che prima che la direttiva sia approvata ci vuole anche un'altra legge dentro 12 mesi secondo me in questo caso perché venga recepita dai singoli governi nazionali e poi appunto c'è ancora il passo successivo che comunque qualcuno ti deve mandare in quello che sto dicendo io è semplicemente che questa direttiva è scritta male e fa delle cose che secondo me non avevano molto senso questo è il mio pensiero personale spiego appunto perché questo è il mio pensiero poi chiaramente l'importante è comunque avere questa idea spero che siete in molti d'accordo che comunque anche se non ci fosse stato questo articolo 12 bis non moriva nessuno ma neanche gli organizzatori morivano ecco soltanto questo questo è stato l'unico punto in cui effettivamente il settembre si è migliorato l'articolo 13 era quello sulla censura preventiva allora non è più è scritto esplicitamente che la censura non viene fatta con strumenti automatici ma deve essere controllato cioè da un essere umano poi chiaramente gli strumenti automatici possono essere utili per schermare per dire nessuno lo vieta però appunto non viene fatto automaticamente qui è anche successo che l'europarlamentare Giulia Reda ha detto guardate che mi è stato cancellato per violazione di copyright un mio documento dove io raccontavo delle cose contro questi sistemi ma ovviamente tutta roba mia scritta da me però hanno trovato le parole chiave con i nomi e è stato automaticamente cancellato ci sono accorti che forse per il momento come diceva anche poi il professor Resetti nel primo intervento nel pomeriggio l'intelligenza artificiale sta migliorando ma non è ancora così intelligente come il nostro cervello sull'altra cosa appunto l'altra cosa positiva appunto che come già nella direttiva 2001 le piattaforme digitali hanno ancora una presunzione di innocenza nel senso che se sanno che c'è qualcosa sotto copyright devono immediatamente toglierlo e su questo siamo tutti d'accordo però non sono obbligato a controllare prima del caricamento che ci sia il copyright l'articolo 13 bis è stato aggiunto e parla di sistemi che riproducono in modo automatico quantità rilevanti di opere visive protette da diritto d'autore google images cioè se non c'è scritto l'ho fatto apposta parlo troppo mi dicono che parlo troppo il microfono non lo fa capire non c'è scritto google images però è chiaro che è quello questo è stato aggiunto per sicurezza i rumors dicono molti emendamenti sono stati fatti perché se altri emendamenti prima ci toglievano dei diritti del copyright lo recuperavamo in qualche altro modo questi gli articoli 15 14 e 16 finalmente danno qualcosa anche per gli autori perché c'è anche un piccolo particolare il copyright nasce come diritto di autore o diritto di copia dipende in Italia noi parliamo di diritto d'autore la famosa legge 366-41 quella appunto fatta ancora dall'area d'Italia imperatore di Etopia nell'ambiente anglosassone si parla di copyright diritto di copia ci sono delle differenze abbastanza importanti per esempio per noi il fatto che uno sia un autore è un diritto morale che non può essere tolto cioè io non posso scrivere ufficialmente una cosa e darla a un altro e dire tu puoi dire che l'hai scritta tu io posso cedere tutti i diritti commerciali quindi la vilbecunia però appunto non il diritto d'autore tra l'altro si arriva a cose molto buffe questo è il mio l'ultimo libro che ho pubblicato uno apre apre il copyright e trova scritto copyright 2018 Armando Armando SRL l'editore che l'ha pubblicato secondo voi è obbligatorio che ci sia il copyright dell'editore su un libro questo è un libro uscito in edicola qualche mese fa sempre mio ovviamente scrivo tanti libri quando non so cosa fare copyright 2017 Maurizio Codogno poi sotto copyright 2017 sulla presente edizione a scelta fascicoli SRL io tipicamente in Italia quando uno pubblica un libro l'autore cede anche il copyright non è assolutamente obbligatorio ricordatevelo nel caso dell'edizione edicola il contratto che ho fatto è un contratto per l'edizione edicola quindi il secondo copyright sotto ma io continuo a avere copyright sul libro non cambia assolutamente nulla nel senso guadagni pochissimo sia in un caso che nell'altro è solo una questione dei principi solo per ricordarvi come comunque gli autori sono l'anello debole della catena in realtà e in questa direttiva nonostante fortunatamente ci sia qualche articolo che serve agli autori è molto interessante quello del secondo punto se nasce un nuovo mercato l'autore ha il diritto di chiedere un ricontrollo del contratto per avere un po' di soldi anche da quel mercato perché adesso quando uno cede i diritti li cede tutti anche sulle cose future è proprio scritto così quindi da questo punto di vista effettivamente è una buona cosa la direttiva però secondo me è poco comunque perché la direttiva è nata più dal punto di vista di chi ha già i diritti quindi degli editori che dal punto di vista di chi è creativo ed è questo quello che appunto secondo me non è stata una grande bella cosa perché una vera direttiva sul copyright avrebbe dovuto appunto pensare più alla creatività che ai detentori dei diritti attuali questo è sempre il mio punto di vista un'altra cosa che non c'è e che abbiamo tentato di far raggiungere non è passata in nessun modo neanche non commerciale è il diritto di panorama allora grazie a Ceno in Tese San Paolo io tecnicamente non posso fotografarlo e rendere per farci una cartolina perché perché gli architetti hanno anche il diritto su tutto non solo sul progetto eccetera eccetera anche sulle immagini di qualcosa che è sulla pubblica via quindi io lo vedo non è una scusate ogni tanto mi arrabbio per quanto mi non è la cosa del museo museo è una cosa interna tu dici o il proprietario l'ente eccetera dice no tu non puoi far foto va benissimo qui è una cosa che tu non puoi non vedere perché lì ti spunta esci fuori su questo vittorio e dici oh cos'è sta roba qua una volta non c'era ecco però appunto ci sono questi diritti allora in Europa la situazione è molto variabile tipicamente nel nord Europa è assolutamente lecito fare queste cose nel sud no sono anche cambiate fino a due anni fa in Belgio era una situazione come la nostra non era possibile fare foto di questi monumenti l'atomium non poteva essere fotografato hanno cambiato legge nel 2016 dal 2016 è possibile anche fotografarlo senza nessun problema bene si era cercato di fare degli emendamenti che permettessero o l'uso appunto diciamo cartoline quindi un uso commerciale o perlomeno un uso non a fine di lucro non ne è passato nessuno si vede che guadagnano così tanto con i diritti connessi alle foto dei monumenti dei palazzi che hanno voluto tenerselo fermo l'unica ipotesi che vi viene in mente non so se siete ancora svegli abbastanza se vi interessa sapere perché wikipedia ce l'ha con il copyright si va bene al limite mi fermerà lui quando vi sono andato troppo tardi ovviamente sono tutte cose pubbliche 10 minuti ce li hai tutti forse ce la faccio anche in 5 dai allora per wikipedia il copyright è sacro nel senso se qualcuno vede qualcosa che è stato copiato da qualche parte si cancella e si cancella vuol dire che appunto non c'è proprio più non è come quando uno fa le modifiche che se uno va indietro trova le voci vecchie si cancella copieretta importante il piccolo guaio sulle sui concetti diversi vi ho già spiegato quindi posso saltarlo è che la licenza in virale sì perché nel movimento del software si sono inventati la licenza G GPL che è quella che dice tu puoi usare tranquillamente tutto quello che io scrivo anche per scopi commerciali però se lo usi devi lasciare il tuo software con la stessa possibilità di riuso è una cosa un statement politico molto forte lo usano relativamente in pochi perché appunto effettivamente vuol dire essere i talebani del software comunque esiste wikipedia era nata con questa licenza perché era l'unica possibile poi si è passata alla licenza di creative commons che sono state inventate apposta per dire noi ci teniamo chi ha la licenza di cc ci tiene alcuni diritti ma ne dà degli altri ne ne lascia libri quindi io posso dire ad esempio la stampa gli articoli della stampa sono sotto licenza ccncnd nc vuol dire che io non posso usarli per uso commerciale è giusto la stampa si fa come si chiama che senso ha fare di concorrenza alla stampa usando i suoi articoli la stampa ti dice non puoi fare opere derivate quindi non puoi partire da un mio articolo per scriverne un altro puoi citarlo ovviamente puoi prenderlo come punto di partenza ma non fare un articolo con lo stesso impianto è anche questo logico e poi appunto l'altro tipo di licenza la più liberale la BAI quella che dice appunto semplicemente devi semplicemente dire chi ha dato questo chi ha fatto originariamente l'articolo come dicevo prima in Italia è obbligatorio perché il diritto d'autore è inalienabile all'estero nel mercato anglosassone no e quindi appunto le hanno aggiunte poi c'è l'SA che è appunto stessa attribuzione se tu ce l'hai vuol dire che se tu fai qualcosa ricicli un articolo devi averlo devi lasciarlo da libero a tutti wikipedia appunto ha una licenza cc by s al che vuol dire che tu puoi scrivere un libro copiando voci di wikipedia e venderlo l'hanno fatto su Amazon c'era uno che aveva tentato dice tanto non mi costa niente lo stampo solo se qualcuno me lo chiede aveva il diritto di farlo l'importante era dire che appunto era preso da wikipedia e se lo usavi e il testo di quel libro potevi riciclarlo tanto ormai chi te lo ricombrava però questo è molto importante perché wikipedia non ha il materiale su wikipedia può essere usato anche commercialmente ricordate all'inizio che vi dicevo che si parlava di cose a fine di lucro e poi dopo si diceva attenzione le enciclopedie online le enciclopedie online erano a fini non commerciali wikipedia non ci guadagna quindi non è a fine di lucro però visto che il testo dentro è comunque utilizzabile commercialmente siamo sicuri che non sia a fine commerciali chi lo sa la direttiva ovviamente non te lo dice perché dal suo punto di vista non è importante però il fatto che non abbiano riscritto fini lucro e abbiano messo fini commerciali a me puzza mettiamola in questo ruolo potevano copiare fini di lucro stavamo tranquilli dormivamo sogni tranquilli probabilmente non avremmo fatto lo sciopero di wikipedia perché non avevamo nessuna scusa e invece è andata così cc0 ve lo racconterò un'altra volta se c'è qualcuno interessato perché diventa ancora più complicato e usciremmo un pochino fuori dal seminato questo l'ho anche già detto ovviamente di ricitazione ecco prendete qualcosa da wikipedia dite wikipedia secondo wikipedia c'è questo noi siamo contenti ma non peraltro l'ultimo aneddoto boia chi molla la frase quando è uscita la prima volta non si sa o meglio sappiamo chi intorno al 2005 conosco il nome cognome lo conosco anche di persona non sono io aveva scritto sulla voce wikipedia boia chi molla che era stata dedita dall'onora pimental durante i moti di napoli di fine settecento e non come si sente di dire di solito che sia nata all'inizio durante la prima guerra mondiale o peggio ancora poi negli anni sessanta ripresa giù nei moti calabresi naturalmente questo cambia molto da un punto di vista politico il problema è che esistono delle fonti che dicono sì la voce boia chi molla la frase è stata detta nel fine settecento il problema è che tutte queste fonti sono successive alla prima fonte su wikipedia quindi noi non abbiamo noi non noi wikipedia noi tutti presenti non abbiamo nessuna possibilità di sapere se chi ha scritto il libro ha aperto wikipedia ha copiato la cosa e non ha detto che l'ha presa da wikipedia oppure effettivamente c'è un'altra fonte dal mio punto di vista di enciclopedia è una tragedia se ci pensate perché proprio perché noi non siamo un'enciclopedia classica noi siamo gente che appunto prende delle fonti che si spera autorevoli se non sono autorevoli le togliamo dopo e diciamo loro hanno detto questo quindi fidatevi di loro se la gente si fida di noi non funziona scusate ma è proprio una fregatura quindi per piacere usate tranquillamente wikipedia non avete nessun problema non vi chiediamo soldi vi richiediamo per altre ragioni ma non perché avete usato gli articoli se lo uno se lo usate dite che l'avete usata non mi sembra di chiedere molto della vita fine come ho detto quando poi metteranno gli interventi tutte le slide e le note che ho scritto sulle slide perché dalle slide si capisce poco lo so sono tutte appunto liberamente disponibili e non dovete basta semplicemente guardare che l'ho scritto io che l'ho scritto io